Non credo sia un posto adatto a tipei come voi Qualche cosa di pauroso può accadervi prima o poi Per fortuna qua c'è chi sa sempre quel che fa E conosce i pericoli che tirano in città Sono io quell'amico che si può occupare di voi Correrò a salvarvi come fanno i veri eroi La miglior strategia senza dubbi è la mia Proprio come un faro acceso rischiaro la via Sono una garanzia Il migliore è una garanzia Potrei proteggervi da tutto ed essere per voi L'aiuto che vi manca e che non c'è Come se fossi un fratello vi curerei e poi vi mostrerei l'ombra cosa c'è Se siete spaventate lo giuro ci sarò E nell'oscurità sono io che vi proteggerò Dei fiori delicati abbandonati a sé Ma ora il destino cambia grazie a me Perché sarò quell'amico che si può occupare di voi Correrò a salvarvi come fanno i veri eroi La miglior strategia senza dubbi è la mia Io sono un faro acceso che illumina la via Tieni, dia velco di venire da me tra 20 minuti Ho qualcosa che cancellerà magicamente tutti quanti i miei debiti Sono una garanzia E... 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 Grazie a tutti.